Un autobus di linea è finito in un fossato a Sandrigo, per fortuna non si è ribaltato e non ci sono stati feriti. Sono tutte da stabilire le cause, come pure la dinamica del pauroso incidente stradale avvenuto a Sandrigo. Nell'incrocio noto come quattro strade, a due passi dalla zona artigianale della località bassanese, un bus di linea è uscito di strada. La corriela della società vicentina Trasporti è improvvisamente sfuggita al controllo del conducente e si è fermata a qualche metro dalla sede stradale, centrando in pieno un palo della corrente elettrica. Sul posto sono accorse le pattuglie della stradale di Bassano e Vicenza, che hanno effettuato i rilievi di rito e sovrinteso alla difficile situazione viaria. L'incidente è avvenuto infatti a ridosso dell'ora di punta, mandando in tilt la viabilità locale. Alle quattro strade è arrivata anche una gru, che ha rimosso il mezzo dal ciglio della strada. Nella corriela c'erano il conducente e otto passeggeri, dei quali nessuno è rimasto ferito. Nonostante il botto e il trambusto conseguente, sono state registrate solamente contusioni, qualche graffio e tanta paura perché era nel bus. SVT ha fatto sapere che la dinamica del sinistro è tuttora al vaglio e non è quindi possibile sapere se lo schianto sia da imputare a un guasto, a un errore umano o a una drammatica fatalità. Adesso, essere nel centro del mirino di una parte politica, ritornare nel centro del mirino, è a Padova il centro sociale Pedro. Dopo l'aggressione in un bar del centro storico padovano, in ghetto, i danni di un referente di Casa Pound e di un ex consigliere leghista. Lo chiedo al sindaco Giordani e lo chiedo con molta forza, Giordani, chiudi il Pedro. In un video il leghista Roberto Marcato chiede la chiusura del centro sociale Pedro. A pochi giorni dall'aggressione in un bar di Via Gritti, nel ghetto di Padova, di un ex consigliere comunale della Lega e di un militante di Casa Pound, sono in molti a chiedere una risposta di forza da parte del sindaco Giordani contro il centro sociale che ha sede in Via Ticino. A colpire compugni e sedie Nicolò Calore e Andrea Bortoluzzi sarebbero stati in cinque all'urlo di fascisti, fascisti. Anche il gruppo Fratelli d'Italia annuncia un esposto in procura. Marcato intanto in calza al primo cittadino, non è possibile che a Padova ci siano presidi di illegalità e non esiste che venga usata la violenza come strumento di interdizione politica. Il centro sociale Pedro si trova in una proprietà del comune di Padova. Il questore di Padova sostiene che lo potrebbe sgomberare solo se il comune lo richiedesse. Pertanto mi sembra che non ci siano altre soluzioni se non quella che il sindaco Giordani chieda lo sgombero immediato del centro sociale Pedro. Anche i consiglieri comunali d'opposizione non vogliono certo che la vicenda venga accantonata con una nota da Palazzo Moroni e puntano il dito contro il vice sindaco Arturo Lorenzoni chiedendo che prenda la distanza dal gruppo di consiglieri di coalizione civica che in più occasioni sono scese in piazza a fianco degli antagonisti. Alain Luciani della Lega ha depositato una mozione per chiedere che ci sia la condanna unanime da parte dei consiglieri. Vogliamo che il consiglio comunale si esprima e condanni fortemente quello che è accaduto. Siccome in passato abbiamo visto alcune frange all'interno del consiglio comunale non condannare in maniera precisa vogliamo questa volta invece che ci sia una condanna unanime. Oltre alle scuse la vicenda poi deve essere discussa. In consiglio e qualora non ci dovesse essere la condanna di tutti i consiglieri d'opposizione chiedono le dimissioni dell'ala più estrema di coalizione civica. Quando c'è una parte violenta se la politica non la condanna diventa complice. Sul fronte delle indagini la Digo sta ristretto al cerchio. Gli autori materiali dell'aggressione sarebbero state 5 persone. Intanto sabato pomeriggio ci sarà la passeggiata in ghetto annunciata dalla Lega ma si preannuncia già una giornata di passione sul fronte dell'ordine pubblico visto che anche il centro sociale Pedro ha detto di voler scendere in piazza. Insomma una vicenda che non finisce letteralmente mai. Parliamo di timbrare il cartellino a andarsene in palestra cosa che non piace molto ai datori di lavoro. Condannata un anno e sei mesi e un risarcimento di 50.000 euro è quanto ha deciso il Tribunale di Padova nei confronti di una ex funzionaria dell'ARPAV l'Agenzia regionale per l'ambiente accusata di aver timbrato il cartellino e di essersi poi allontanata dall'ufficio. La donna tra il 2016 e il 2017 secondo gli accertamenti per decine di volte avrebbe timbrato l'ingresso al lavoro al mattino per poi andare in palestra a fare ginnastica. A smascherarla sono stati i carabinieri del nucleo investigativo che l'hanno ripresa più volte mentre usciva dall'ufficio. Ora la donna è stata condannata con rito abbreviato. Davanti al giudice civile si svolgerà ora la causa per il risarcimento dei danni d'immagine. L'ARPAV ha chiesto 90.000 euro. Parliamo di spacciatori arrestati a Padova messi in libertà in tempi molto brevi anche se pieni di precedenti. Il ministro Salvini in questi casi ha quasi un automatismo per fare post. Sabato il blitz delle forze dell'ordine l'ennesimo ai Giardini Arena e l'arresto di due spacciatori. Lunedì, nemmeno 48 ore dopo, di nuovo liberi. Una storia che siamo abituati a sentire e che ormai hanno imparato anche i pusher che sono diventati abili e conoscono tutti i modi per evitare il carcere. Durante le retate infatti non si fanno mai beccare con molti grammi di sostanza stupefacente. Solo un paio di dosi. Così facendo sanno che dopo l'arresto in meno di 24, massimo 48 ore, sono già liberi. Tutto al più sottoposti all'obbligo di firma. L'ennesimo episodio è avvenuto a Padova nel fine settimana, però non è passato inosservato e sul caso è intervenuto anche il ministro dell'interno Matteo Salvini che ha chiesto di accelerare la proposta della Lega per cancellare i benefici ed evitare che spacciatori possano impunemente tornare a vendere dosi. Sto lavorando a questo, ha affermato il vice premier citando proprio quanto accaduto a Padova dove i due pusher, già con precedenti penali sono stati arrestati e rimessi in libertà perché avevano una modica quantità di droga. Anche il presidente della Commissione Giustizia al Senato Andrea Ostellari ha fatto un appello fermiamo i venditori di morte. Il disegno di legge della Lega intende riformare il quinto comma dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti eliminando la condotta lieve spiega Ostellari saremo in grado così di punire gli spacciatori che conoscono bene la nostra legge e che la usano per non finire in galera. Continua Sabato, durante la retata ai Giardini Arena dove lo spaccio avviene quotidianamente all'ombra della Cappella degli Scrovegni i due pusher, un 21enne del Gambio e un 31enne tunisino avevano in tasca piccole quantità di hashish e marijuana arrestati in flagranza il primo ha patteggiato condannato a due mesi e è stato rimesso subito in libertà l'altro, nonostante gli innumerevoli precedenti è stato scarcerato. C'era sfuggito una L di troppo nel titolo scusateci chiamasi refuso in italiano parliamo di lo scontro al Comune di Venezia a Caffarsetti per il voto al bilancio di previsione In quattro anni il buco di bilancio del Comune di Venezia si è più che dimezzato a Caffarsetti l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 con 23 voti favorevoli e 9 contrari diventa anche occasione per tirare le somme dell'esperienza amministrativa della Giunta Brugnaro che ad un anno circa dalle elezioni rivendica con decisione e carte alla mano i risultati del piano di risanamento delle casse comunali Un disavanzo che abbiamo ereditato di 79 milioni viene ridotto in questi quattro anni di attività a 29 milioni la liquidità della cassa che passa da meno 113 milioni a più 54 milioni appunto a fine di 2018 il debito che è diminuito in quattro anni da 307 milioni a 243 milioni Gli stessi numeri sono letti però con occhio molto critico dalle opposizioni che ridimensionano non di poco i meriti dell'amministrazione Non c'è più rispetto del patto di stabilità e è stata rifinanziata dopo un decennio la legge speciale che per 20 anni è stata utilizzata solo per finanziare il Mose mentre adesso sono arrivati i soldi anche per finanziare gli interventi di manutenzione quindi non è il debito che c'era è un debito ordinario che tutte le grandi città hanno e che tutte le grandi città adesso stanno ammortizzando perché è cambiato fortunatamente il mondo a questo punto di vista La Municipalità di Venezia ha bocciato il bilancio di previsione del Comune sulla base tra l'altro del raddoppio dal 2015 della spesa per incarichi di collaborazione arrivati a 4 milioni di euro ma soprattutto si contesta al Comune di fare cassa svendendo il patrimonio immobiliare Palazzi Pubblici l'accusa che diventeranno alberghi Il patrimonio immobiliare ormai è stato svenduto quasi tutto i cosiddetti gioielli di famiglia a meno che non si vengono i cafarsetti sono già stati venduti tutti Sulla svendita del patrimonio non c'è assolutamente nessuna svendita ci sono sicuramente degli immobili che per noi non sono più utili e per cui vengono venduti per fare lavori sia a Mestre che a Venezia un quindicenne trovato armato a scuola ne parliamo dopo la pausa Ciao a tutti Buongiorno 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 Grazie a tutti.